Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto presentando è un romanzo di narrativa contemporanea che cattura l'essenza della giovinezza, della ricerca di emozioni e delle scelte che possono influenzare il corso della vita. L'autore dipinge un ritratto affascinante dei protagonisti che si abbandonano all'arte, alla passione e all'esperienza, esplorando il mondo con una sete di vita incontenibile. La trama del libro Il ladro di rose dello scrittore Francesco Speranza, pubblicato dalla casa editrice Santelli, è la seguente. Eravamo in cerca di seduzione ogni giorno che si rispetti. Era stato bello essere invasati e posseduti. Quel disporsi al mondo aperti e friabili, come dolci da guantare, rappresentava la vera nostra forza di giovani attratti da ogni nuova reliquia d'esperienza, quel mistico abbandono creativo che ogni arte che ti cattura esprimi. Il mondo poteva possederci, come noi ci ludevamo di possedere il mondo. Eravamo alla merce di ogni splendida attrazione che catturava la nostra attenzione e che ritenevamo degna di sedurci a tempo illimitato. Intreccio dei racconti e vissuti tra passato e presente, Il ladro di rose, narra la storia della famiglia Salvati e in particolare di Giacomo, perseguitato in età adulta da reori commessi da ragazzo. Sarà solo il ritrovamento fortuito di uno scritto inedito a far luce sul suo passato, catapultando i suoi figli nei meandri malavitosi di Roma e province laziali del periodo post-60ottino, sulle tracce invisibili di epiloghi inaspettati. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato e se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video ed aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.